Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non sopraggiungano altri veicoli. Qui si è fatta? Chi si è fatta? Mamma G. Assalamualaikum. Quando si è riuscita a un pericolo, bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. È vero, Mamma G. È vero. quindi questa è la stessa cosa che avvicinare la stessa e la stessa che non sono tornati a due raggiungi che non lo fanno bene che non sono tornati al progetto